Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, sempre più vicini e innamorati, non hanno più paura di nascondere la loro relazione. Dopo il primo bacio pubblico durante Halloween, le loro uscite insieme si sono moltiplicate. Dopo una visita ai mercati di Natale a Porta Venezia con i figli, la coppia è stata fotografata a Roma mentre passeggiava per le strade e pranzava in un ristorante. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele, tanto che si è parlato di un possibile fidanzamento imminente. Chiara Ferragni, influencer di successo e Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli, sembrano non avere intenzione di nascondere il loro amore. Nonostante i dubbi dei genitori di lui, la coppia si mostra sempre più unita e felice. Recentemente sono stati visti passeggiare mano nella mano per le strade di Roma e pranzare in un ristorante di lusso insieme ad amici. Le foto scattate da un paparazzo confermano la serenità e la complicità tra i due, che sembrano aver deciso di non nascondere più la loro relazione. Il loro amore sembra essere sempre più forte e consolidato e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La coppia sembra pronta a condividere la loro felicità con il mondo e i fan non vedono l'ora di vedere cosa riserverà il futuro.